C'è chi ha dormito per 40 notti in reparto senza mai andare a casa. C'erano primari che spingevano barelle, tecnici ospedalieri che si rendevano disponibili per guidare le ambulanze. Sono flash dell'emergenza vissuta nel marzo 2020 negli ospedali piacentini, pieni di persone che non riuscivano a respirare. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Luca Baldino, ha ripercorso l'anno della pandemia, a partire da quel 21 febbraio in cui il coronavirus ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia, ma da settimane si era insidiato di nascosto tra la popolazione. Dallora iniziarono mesi di battaglie, di rivoluzioni negli spazi e nei ruoli. A marzo le giornate iniziavano alle 6 e finivano alle 2 di notte. Sono andato a casa piangendo più volte, ha rivelato Baldino, che nell'emergenza portò personalmente quattro camici all'ospedale di Fiorenzuola, dove erano finite le scorte. E poi quel pomeriggio, in cui 130 persone affollavano il pronto soccorso, e adesso cosa facciamo, pensò il direttore generale, ricordi di un inferno in cui è emersa l'abnegazione del personale ospedaliero e la capacità di trasformare le strutture, un anno in cui 1500 persone sono morte, nonostante gli sforzi per salvarle. 1500 morti sono 1500 morti, come fai a non sentirtele addosso? Sono lì. Non nel senso che ci sia qualche responsabilità di qualcosa che doveva essere fatto e non è stato fatto, insomma. Quindi tutto quello che deve essere fatto è stato fatto bene. Certo è che questa è una tragedia in cui ci metteremo tanto tempo. A un anno di distanza la luce in fondo al tunnel sembra più vicina grazie al vaccino. La campagna prosegue con l'incognita dell'arrivo delle dosi. Per ora è una Ferrari con poca benzina, ha dichiarato Baldino. L'84% degli operatori sanitari è stato vaccinato, ne mancano circa 400. È chiaro che se anche fossero solo uno, per me è uno di troppo. Ci dobbiamo vaccinare tutti, soprattutto gli operatori sanitari. La nostra prima priorità deve essere proteggere oltre che noi stessi i nostri pazienti. L'emergenza, secondo Baldino, ha evidenziato ancora di più la necessità di spazi e quindi del nuovo ospedale.